Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24, i titoli del nostro telegiornale. La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di confisca nei confronti di una società operante nel porto di Gioia Tauro. A Crotone sono stati sequestrati beni per 150 mila euro ad un imprenditore e ad un avvocato. Un episodio drammatico che mi riporta alla memoria le minacce di morte rivolti alla mia persona. Angela Napoli, già membro della commissione parlamentare antimafia, commenta in tal modo l'esplosione della bomba Limbadi. Ospitato a Catanzaro un convegno sulle politiche sociali e le riforme del welfare. Il Catanzaro si prepara ad affrontare il Siracusa. Riscontrati dunque in debiti contributi per oltre un milione di euro ad un'azienda che gravitava nel porto di Gioia Tauro nell'ambito dei controlli della Guardia di Finanza contro i fenomeni delle frodi. Sentiamo. Su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi, la Guardia di Finanza di Gioia Tauro ha eseguito un provvedimento di confisca per equivalente nei confronti della società al Corriere Group S.R.L. condannata per responsabilità amministrativa per avere indebitamente percepito contributi pari a 1.200.000 euro destinati alla realizzazione di uno stabilimento industriale nei pressi del porto di Gioia Tauro. Il provvedimento accaricò della società l'epilogo di una complessa indagine che aveva consentito di individuare un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Banca rotta fraudolenta, frode fiscale continuata, posta in estere anche attraverso un porticoso giro di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio di proventi da attività illecita, neutralizzato attraverso l'applicazione di misure cautelari personali e patrimoniali reali a carico delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nella vicenda. Le indagini espedite hanno consentito di acclarare, tra l'altro, che socio occulto della società il Corriere Gruppo SRL. Era tale Pepe Domenico Detto Mimmo pregiudicato in quanto ritenuto affiliato di rilievo delle cosche piromalli pesce di Gioia Tauro e Rosarno, famoso per essere stato a suo tempo protagonista nei tentativi di estorsioni perpetrati dallo stesso ed altri sotto la regia delle principali cosche della zona ai danni della Med Center Container Terminal S.P.A. Nella vicenda risultavano coinvolti, tra gli altri, anche i figli del Pepe, Ferdinando e Salvatore, con quest'ultimo che era stato tratto in arresto per associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione Crimine 2 in quanto ritenuto affiliato alle cosche piromalli pesce o pedisano. E ancora i finanzieri del Comando Provinciale Pitagorico nei giorni scorsi hanno eseguito una confisca disposta dal Tribunale di Crotone di disponibilità finanziaria e beni immobili ubicati in Rocca di Neto per un valore complessivo di 150 mila euro, i particolari nel servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Crotone nei giorni scorsi hanno eseguito una confisca di disponibilità finanziaria e beni immobili a Rocca di Neto per un valore complessivo di 150 mila euro. L'attività posta in essere dalle fiamme gialle della compagnia costituisce l'epilogo di una complessa attività di polizia giudiziaria in materia di usura che ha permesso di individuare sette soggetti usurati con tassi superiori al 135% di interesse praticato ad opera di un sodalizio criminale costituito da un avvocato e da un imprenditore. I due indagati che in relazione al quadro probratorio fornito dai militari della Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica crotonese hanno optato per l'applicazione della pena su richiesta dalle parti. Patteggiando sono stati condannati ad un anno di reclusione e ad 8 mila euro di multa il professionista e a due anni di reclusione 10 mila euro di multa l'imprenditore. I finanzieri hanno eseguito il decreto emesso dal Tribunale di Crotone che ha disposto alla confisca di due terreni agricoli, una unità immobiliare adibita a studio legale e tre rapporti finanziari nei confronti di Ernesto Brasacchio classe 1972 di professione avvocato che dal 2010 al 2015 è stato assessore presso il comune di Rocca di Neto e nei riguardi di Rosario Benincasa classe 1947 imprenditore emigrato in Germania. E continuiamo con la cronaca. Avrebbero favorito la prostituzione nel centro a Catanzaro, uno affittando appartamenti di sua proprietà a donne straniere e l'altro occupandosi della logistica e della riscossione degli introiti. Un medico dentista di 68 anni e un giovane di 25 sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla squadra mobile di Catanzaro con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'indagine della sezione criminalità straniera e prostituzione della questura del capoluogo calabrese andate avanti per diverso tempo con osservazione e pedinamenti sul territorio cittadino hanno consentito di individuare le responsabilità dei due arrestati. In particolare è emerso che il dentista proprietario di diversi appartamenti fittava le abitazioni alle ragazze con la complicità del giovane che si occupava appunto della logistica. A confermare il quadro è stata una prostituta colombiana che ha indicato nel 25enne la persona alla quale consegnava 350 euro a settimana per usufruire di un piccolo appartamento. Cambiamo argomento, sono davvero sconvolta da quanto accaduto a Limbadi, mi tornano alla memoria, le minacce rivolte alla mia persona, alla famiglia, alla mia famiglia appunto dai Mancuso. I commenti dell'onorevole Angela Napoli ai nostri microfoni in merito all'autobomba esplosa nel Vibonese. Onorevole Angela Napoli, dopo la bomba di Limbadi, che si presume che sono stato imancuso a mettere questa bomba nell'auto di questo giovane, e con lei più volte è stata anche minacciata da questa famiglia, oggi lei come si sente? Ma io sinceramente da quando è successo l'episodio di Limbadi non riesco a dormire, perché rivivo il terrore che ho vissuto proprio a causa delle minacce che sono arrivate da varie parti della famiglia Mancuso, perché poi va detto che anche rispetto a quest'ultimo episodio della bomba sotto la macchina a Limbadi gli inquirenti avranno il loro da fare per scoprire perché bisogna ricordare che la famiglia Mancuso non è unita, sono diversi filoni e purtroppo a suo tempo io ho vissuto un momento di grande difficoltà proprio per queste minacce, anche perché sempre mi riferisco a quel periodo sotto la casa dove abitavo a Roma una sera è stata individuata una macchina che gli inquirenti hanno ritenuto fosse predisposta per essere obiettivo nei miei confronti. Quindi quando sento queste cose al di là della tragicità che credo ogni essere umano riviva nel momento in cui vede determinate immagini, al di là della tragicità credo che non si possa davvero stare tranquilli. Sono davvero esasperati i pescatori di palmi e anche le loro famiglie perché ciò che riescono a ricavare dal mare è veramente di poco conto, soprattutto lamentano i divieti nel pescato che limita il loro lavoro e soprattutto i loro guadagni. I giovani vanno via pure, no? Perché qua non c'è più lavoro alla tornata. Ormai, ormai con la pesca niente, non c'è niente. Sei un pescatore? Sì. Quanto guadagni al giorno? Guadagnare? Che ne so io. Dieci, quindici, venti, cinque, cinquanta, dipende. E famiglie? Sei sposato? No, non sono sposato, sono vedendo se. Se noi ce ne andiamo di qua siamo tutti rovinati. Quindi hai pensato di andartene? Eh, se si trovi me ne vado. Se no, che fai? Ti deve convenire prima. Non c'è lavoro, quindi una pesca che sta morendo? Sì, sì. Ormai prima c'erano di spadare, prima c'erano di tornare. Ognuno di noi andava tre, quattro mesi fuori dalla casa e guadagnava. Ora non si guadagna più niente. Quali sono i pesci che avete preso stamattina, che hanno preso i vostri mariti? E' il cerro, questo è. Questa è questa mattina? Sì, stamattina. Quindi ancora ce n'è pesce? Ma così così, di passaggio erano queste, ma non che si pesca tanto. Quindi si vive alla giornata, così. Una volta era diversa la pesca, non si pescava molto? Sì, sì, una volta sì. Mi ricordo quando mio nonno portava la barchetta piena di pesci, ma adesso è raro. Sei la moglie di un pescatore? Pescatore, però morimmo dalla fame. C'è di ritornare, c'è di dire le cose di pesci e spate. E ora siamo come la mosna, se ne busciamo 5 euro su assai. Non c'è una bella pesca come una ota, che potevamo sposare figli, che vivono lontano, mancavano 5-6 mesi, i mariti, i frati, i figli. Ora non c'è niente, ciò. I figli portano miseria? Eh, ciò mi possono aiutare per me aprono questa pesca e questa maniera, se no... I giovani stanno andando anche via? Eh, non danno a dire. Se avevano questo lavoro, lavoravano. Ma, questi poveri figli, che ne fare? Non c'è una laurea in terra. Io, mamma, io, mamma, riuscivano a mare e lanciavano, se devono costarti che vi è molto cazzo. La finanza poi ne stava rovinando, se vanno a nannata non può noire, se vanno a spatole non può noire. A Vardia Costera poi fu una rovina. Non le faccio, era nulla avanti. Cambiamo nuovamente argomento. Progettazione delle politiche sociali in Calabria, lo stato dell'arte delle riforme del welfare, questi gli argomenti trattati nell'ambito di un incontro che si è svolto a Catanzaro. La Calabria di domani, le politiche sociali e regionali e la riforma del welfare. È stato questo il tema del convegno organizzato dall'Ufficio per il appartenariato della Regione che si è svolto nella Sala Verde della cittadella regionale a Catanzaro. Gli argomenti trattati hanno riguardato la progettazione delle politiche sociali in Calabria, lo stato dell'arte della riforma del welfare del terzo settore e gli strumenti di polisi sociale messi in campo dalla Regione con il rapport Calabria-FESE 2014-2020. Il terzo settore sicuramente è uno dei soggetti più vivaci dell'economia sociale italiana, lo è in tutta l'Italia e lo è anche in Calabria, lo è non solo per quantità ma anche per biodiversità e per impegno e qualità dell'impegno. Quando parlo di biodiversità dico che l'Italia ha un patrimonio di mobilitazione civile che ha trovato nel tempo tantissime e diverse forme e che sappiamo che insieme oggi possono concorrere a cambiare le nostre comunità, a migliorare la qualità della vita delle persone che vivono in quelle comunità e sappiamo anche che sempre più stanno lavorando insieme e questa è la grande novità delle pratiche che la riforma raccoglie perché la riforma punta molto sulle reti, sulla capacità dei diversi soggetti del terzo settore di lavorare tra di loro, tra uguali ma anche tra diversi quindi spinge fortemente a queste partnership per generare sviluppo e progresso sociale nelle comunità credo che questo è un aspetto che è tanto più importante e tanto più gli obiettivi di sviluppo delle comunità sono articolati, complessi e riguardano molte dimensioni della vita che si raggiungono meglio se il disegno complessivo è disegnato insieme e se le azioni che si portano avanti sono concordate, coordinate in termini di missioni, identità, visione e risorse questo è un nuovo modo di pensare alla sussidiarietà tra soggetti nelle comunità che la riforma introduce e che credo potrà, se praticato bene dagli enti terzo settore ma anche dalle nostre amministrazioni pubbliche, non solo dal cuore portare grandi cambiamenti e grandi prospettive di sguardo e di sviluppo nel nostro paese Abbiamo oggi affrontato alcune delle problematiche che abbiamo per esempio nell'ambito dei comuni nella gestione di questo importante settore a seguito del trasferimento delle competenze dalla regione agli enti territoriali nei comuni c'è scarsità di risorse umane, di competenze e quindi difficoltà a costituire gli uffici di piano che poi sono un organismo che si occupa in modo associato tra i comuni nei vari distretti di tutta quella che è la tematica della programmazione dei servizi da mettere in campo e della spesa poi concreta delle risorse Allora il dialogo con la regione per far capire dove sono i problemi e chiedere quindi un supporto anche dal punto di vista tecnico oltre chiaramente di trasferimento delle risorse il confronto con il forum del terzo settore, con le associazioni chiaramente è un confronto che è utile è una discussione che è in atto oggi su una tematica che attende ancora tante risposte anche se tanti passi in avanti si sono fatti nel recente passato le risorse ci sono, si tratta di spenderle, di spendere bene i comuni devono fare la propria parte e intendiamo farla E ora passiamo allo sport, precisamente al calcio Dopo il pareggio nel derby contro il Cosenza il Catanzaro cerca conferme nel match casalingo contro il Siracusa Ascoltiamo le parole del portiere Gianluca Marco Antonini Stiamo preparando come prepariamo tutte le altre settimane senza grandi differenze Le stesse cose che richiede a mano a Nordi le richiede a me è ovvio che ovviamente è diverso perché la prima partita è l'esordio però la stiamo preparando come tutte le altre settimane al massimo Sì diciamo che è una delle migliori partite in cui esordire è una partita carica di responsabilità da parte mia e da parte dei miei compagni quindi se le prendiamo, me le prendo io e cerchiamo di arrivare alla salvezza Veniamo da un ottimo pareggio perché un derby non è mai semplice giocare a Cosenza non è semplice quindi adesso dobbiamo continuare su questa strada dobbiamo andare al massimo perché questa partita è importantissima e lo sappiamo tutti E per questa prima edizione è tutto io vi aspetto più tardi per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it Grazie e a più tardi